Dopo il caffè sospesa inventato a Napoli, a Mestre la visita medica sospesa, cioè completamente gratuita, ad offrirla ai più bisognosi l'associazione Aied di Via Mestrina. Già una quarantina, quelle erogate dall'avvio del progetto, decollato a ridosso dell'arrivo del Covid, era il 16 febbraio 2021. Vediamo la possibilità a tutte le persone che per qualche motivo hanno delle difficoltà economiche di fare comunque la visita, perché la visita aspetta tutta la collettività, attraverso una donazione, donazioni che altri soci fanno spontaneamente, in modo che quando arrivano hanno la possibilità anche le persone che non riescono per qualche motivo a non fare la visita regolarmente, a farla tramite questo cosiddetto, come per dire, il caffè sospeso dato dalle donazioni delle socie, che liberamente, senza un importo preciso, lasciano una quota. Ambulatori specialistici, una palestra e uno spazio dedicato ai corsi per genitori, anche con i papà e i figli neonati, a individuare soggetti fragili, aventi diritto, le operatrici, nel tam-tam e nel dialogo anche con la rete sociale del territorio, ovvero enti, consultori ed emergency stessa. Ecco per quali prestazioni specialistiche riservate, in particolare alle donne e ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. Quindi visita ginecologica, ecografie, cose così, però un po' tutti, anche gli altri settori, settore psicologico, gli psicologi, l'ostetriche, queste cose qui, è un po' per tutti, diciamo. L'associazione, oltre al contributo regionale di poco più di 10.000 euro annuali, vive grazie ai proventi e donazioni dei soci. Per quanto attiene al servizio della visita medica sospesa, ognuno versa quanto può e vuole. Ci sarebbe bisogno di più, perché comunque ne abbiamo tanto bisogno, però noi ci accontentiamo e comunque è una cosa che deve venire soprattutto dal cuore.